In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, l'ASL di Salerno, in collaborazione con la Fondazione Onda ETS, ha fatto proprio l'obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e di avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza in cui trovare percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti ed indirizzi a cui rivolgersi per richiedere aiuto. Il presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania aderisce alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un'iniziativa che ha già preso il via con un'offerta di servizi sanitari gratuiti ed accesso libero da parte dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Emergenza Urgenza Pronto Soccorso ed in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia e l'Unità Operativa di Pediatria. Tale offerta sanitaria continuerà ad essere garantita nei giorni 25 novembre, 26 novembre e 27 novembre dalle 9 alle 13 al settimo piano della struttura ospedaliera e sarà rivolta alle donne vittime di violenza fisico-psicologica a minori che assistono o hanno assistito ad atti di violenza familiare con il fine di assicurare accoglienza, supporto e presa in carico della persona nella sua globalità psicofisica, sociale e spirituale e nel rispetto della dignità ed unicità di ognuno. Saranno garantiti esami ematochimici, ECG, ecocardiogramma, visite mediche, consulenze e colloqui specialistici. L'iniziativa si inserisce in un percorso che l'Asla di Salerno sta strutturando a favore delle donne vittime di violenza che accedono nei pronto soccorso aziendali per garantire ascolto, accoglienza ed una valutazione complessiva da un punto di vista fisico e psicologico anche con il supporto di esami clinici e strumentali ad hoc, terapia farmacologica e consulenze specialistiche nel più assoluto anonimato, per poi accedere a strutture territoriali per un programma di intervento personalizzato.